Buonasera signori, buonasera signora ministra, buonasera direttore, buonasera direttore del museo di Liechtenstein. Ho cominciato molto facile. Adesso miro qualcosa di più difficile. Sono felice di tornare in Liechtenstein per la terza volta, da quando sono accreditato qui. Ho mai avrei immaginato venendo da Roma di tornare qui e trovare Roma. Io ho mai pensato di arrivare a Roma, da quando arrivo a Lichtenstein e trovare Roma anche qui. È pure una Roma qualsiasi, ma la Roma al quadrato, cioè la Roma per eccellenza. La Roma del Colosseo. Pensi Roma e pensi al Colosseo. Sono due immagini che ormai si sovrappongono. Si può dire che non c'è Roma senza il Colosseo e non c'è il Colosseo senza Roma. Si può dire che non c'è Roma non c'è Roma senza il Colosseo e il Colosseo senza Roma. Ci sono due simboli che sono insieme. Noi che abitiamo a Roma abbiamo imparato a odiare il Colosseo. Diciamo la verità. Perché odiamo il Colosseo? Perché è ingombrato, sta dappertutto, ci perseguita. È un'ossessione. Ma nello stesso tempo lo amiamo. Perché sappiamo che senza il Colosseo Roma non sarebbe quella che è. che soprattutto non attirerebbe milioni di visitatori ogni anno che vengono ad ammirare il Colosseo. E quindi siamo costretti ad ammirare. E lo amiamo con affetto. e per questo motivo ci piace esportare. Non credevo che fosse possibile esportare il Colosseo fino a questa sera. Abbiamo esportato soltanto dei pezzi nel Colosseo. Ma io credo che questa è una mossa astuta degli organizzatori. Abbiamo avuto anche solo qualche parte di colosseo. È stata una molto belle initiative. Grazie a tutti.